Premiare i turisti che soggiornano e spendono nel territorio è l'obiettivo della Dolomiti Gift Card, carta digitale basata su un'app e che sarà data incomodato d'uso gratuito ad ogni struttura ricettiva e di filiera che vorrà far parte della rete di imprese delle Dolomiti bellunesi. Il progetto di marketing territoriale ideato da Consorzio Turistico Centro Cadore e Centro Consorzi di Silico è stato presentato agli operatori turistici e non solo della nostra provincia in un webinar realizzato all'interno del progetto verso Milano Cortina 2026 da un turismo di prossimità ad un turismo internazionale finanziato dal Fondo Sociale Europeo della Regione Veneto. È un progetto promosso dal Consorzio di Promozione Turistica Cadore e Dolomiti e che ha come focus quello di premiare il turista che decide di venire a soggiornare nel territorio della provincia di Belluno attraverso questa card che si basa su un'app, l'app Toduba. Come funziona la card? Ad ogni acquisto fatto dal turista sarà riconosciuto un importo in denaro caricato virtualmente nella gift card dell'ospite, importo che sarà spendibile all'acquisto successivo in un altro punto vendita del circuito che a sua volta dovrà riconoscere un proprio premio di soggiorno servizio senza interruzione di continuità. L'obiettivo di questa card è quella di creare una rete fra operatori turistici del territorio e far sì che il turista possa spendere il budget che via via si accumula all'interno di questa card all'interno dello stesso territorio della provincia di Belluno. In questo modo si incentiva appunto il turista a restare, a soggiornare per un periodo più lungo nei nostri territori e a godere dei servizi offerti.